Un inquietante sorriso inciso da un orecchio all'altro e il corpo tagliato a metà. Quando la polizia viene allertata per il ritrovamento di un corpo in queste condizioni rimane adir poco turbata. Non avevano mai visto niente di simile e non sapevano che quel singolo ritrovamento avrebbe dato il via ad uno dei casi di uccidio più enigmatici e raccapriccianti della storia. Amici miei, buonasera, sono Andrew e questo martedì sono pronto a raccontarvi la seconda storia da brividi che ho scelto per la spooky season. Saranno 5 in tutto, la prima l'avete vista venerdì e le successive le vedrete sempre il martedì e il venerdì fino al primo novembre. Quindi se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi ragazzi non voglio parlarvi di un caso true crime qualunque, voglio parlarvi del caso true crime. Che all'epoca dei fatti non solo ha sconvolto tutti ma anche ha aperto tutta una serie di dinamiche che da quel momento in poi avrebbero caratterizzato tantissimi altri casi di omicidi. Oggi parliamo della black dahlia, la dahlia nera. Sono abbastanza sicuro del fatto che l'avete già vista. Si è fatto un riferimento a lei nella prima stagione di American Horror Story ma anche in varie altre opere cinematografiche, documentari, serie tv e così via. Sono altrettanto sicuro però che come me, prima di fare questo video, non conoscete tutta la sua storia. Tutte le cose strane, misteriose, inquietanti che ci girano intorno. Detto questo ragazzi direi di non chiacchierare oltre e cominciare subito con la storia della black dahlia. Tutta la sua storia. Siamo a Los Angeles nel 1947. In quel periodo la città e l'intero paese, così come tanti altri paesi, avevano appena vissuto una brutta crisi per via della seconda guerra mondiale. A neanche due anni dalla fine del conflitto, la città stava ancora cercando di riprendersi e rimettersi in moto e ci stava riuscendo anche se molto lentamente. Il motore che più di tutti ha spinto la sua rinascita è ovviamente Hollywood, che negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale era stato il centro dell'industria cinematografica americana. Negli anni 30, pensate, gli studios di Hollywood hanno sviluppato un modo di fare cinema che ancora oggi è il pilastro per il mondo cinematografico, ovvero il cinema narrativo classico. Ecco, negli anni precedenti al conflitto, tutta un'intera generazione è cresciuta andando al cinema e vedendo il cinema come la massima forma di intrattenimento, socializzazione. I film non erano solo un modo per, diciamo, scappare dalla realtà, spesso molto dura, ma anche un modo per sognare. Sognare quella vita che solo nei film si poteva vedere. Per cui tantissime persone di quella generazione, cresciute durante la guerra, si ritrovano appena maggiorenni col sogno di avere una vita come quella che vedevano nei film e con il sogno anche di essere nei film. E con tantissime persone, quindi, nella Los Angeles del 47, si trovavano lì per inseguire questo sogno e cercare di emergere in una Hollywood che, sebbene in crisi, avrebbe cambiato loro la vita. Non era semplice, però la concorrenza era tanta e diventare attori non era affatto un lavoro adatto a tutti. Così, alla fine della fiera, la maggior parte delle persone andate lì in cerca di fortuna si è ritrovata a svolgere lavori umili per tirare avanti, tra virgolette. Dopo la guerra, però, la speranza era forte dentro l'animo di ognuno e Los Angeles si incarnava proprio questa grande speranza. Un luogo di opportunità, di crescita, di conoscenza che all'epoca era in grande, seppur lento sviluppo. È proprio in questo contesto che la mattina del 15 gennaio del 1947 una donna di nome Betty esce di casa al mattino presto per fare delle commissioni. È insieme a sua figlia, di tre anni, e si ritrovano a passeggiare in un quartiere prevalentemente inedificato pieno di terreni ancora spogli che si sarebbero sviluppati solo negli anni successivi. Il quartiere in questione è Leimert Park. Ecco, quel giorno, mentre camminano per il quartiere, passano vicino ad uno dei tanti terreni spogli della zona dove Betty nota qualcosa in lontananza sull'erba. Inizialmente pensa sia un manichino spaccato buttato lì al ciglio della strada, ma man mano che si avvicina riesce a scorgere sempre più dettagli. La pelle, i capelli, tutto di quel manichino era un po' troppo realistico e dettagliato. Ed è solo avvicinandosi ancora di più che capisce che quello che aveva davanti in realtà era un cadavere. Una scoperta scioccante per Betty, che per via delle caratteristiche di questo cadavere era davvero convinta che fosse un manichino. Ma capire che si trattava di una persona in quelle condizioni l'ha spaventata a morte. La donna in preda al panico pensa subito a sua figlia, pensa che se avesse visto quella scena sarebbe rimasta segnata a vita. Allora corre insieme a lei verso la casa più vicina, chiede di entrare e di usare il telefono per chiamare la polizia perché aveva appena trovato un cadavere. E così riesce ad allertare le forze dell'ordine. Agenti ed investigatori arrivano sul posto poco dopo e rimangono inorriditi. Si trovano davanti alla scena più raccapricciante della loro carriera. Nessuno di loro aveva mai visto un'altra persona ridotta in quelle condizioni. In quel momento si trovano davanti alla Black Dahlia, uno dei peggiori casi della storia della cronaca nera. È il corpo nudo di una giovane donna, sdraiato sull'erba a faccia in su. Un corpo diviso in due. Presenta un taglio poco al di sopra dell'ombelico che separa totalmente le due parti del corpo, che sono posizionate vicine tra loro ma abbastanza distanti da far capire che fosse separata in due. Un taglio tra l'altro straordinariamente preciso. Probabilmente ci sono volute ore o comunque decine e decine di minuti solo per effettuare un taglio del genere. E solo una mano molto esperta poteva farlo. Non era un'operazione fatta all'ultimo secondo da un assassino qualsiasi per disfarsi di un corpo. No. Chiunque l'avesse fatto sapeva cosa stava facendo. E probabilmente aveva anche studiato molto bene l'anatomia. Gli investigatori infatti pensano subito ad un chirurgo o a un medico. Il corpo inoltre è posizionato accuratamente e in maniera ordinata. Non è buttato lì a caso. Chiunque l'avesse fatto voleva che la donna venisse trovata in quell'esatta posizione. Gli agenti guardano meglio il corpo e vedono i suoi occhi. I suoi occhi sono spalancati. Le braccia all'insù, sopra la testa. Le gambe aperte e le due parti del corpo distanti di circa 30 cm l'una dall'altra. Ora, parire mio, mi è sembrato come se l'assassino abbia deciso di metterla in una posizione quasi scenografica per mostrare con fierezza quello che era riuscito a fare. Le due parti, tra l'altro, erano una qua, la parte superiore, qui. Ok, facciamo qua. Così. E la parte inferiore non era proprio dritta, staccata, ma era un po' spostata. Come ad accentuare ancora di più il fatto che fosse tagliata in due, cioè spostata. Comunque, tornando a noi, gli agenti notano subito che nonostante il taglionetto, gli organi interni erano ancora lì sistemati per bene. Quelli che uscivano dalla parte superiore del corpo erano stati infilati sotto il corpo. L'assassino aveva pensato di mettere in ordine, tra virgolette, anche quelli. Aveva proprio preparato la sua personalissima e disgustosissima opera d'arte, che non vedeva l'ora di mostrare alla polizia. Oltre a questo, su tutto il corpo gli agenti notano dei chiari segni di tortura, perpetrata presumibilmente sia prima che dopo la morte della povera ragazza. Innanzitutto, sul corpo sono presenti dei tagli AX. Sono presenti sia sulle gambe, ma anche nella parte superiore del corpo. E dentro questi tagli AX, oddio, come ve lo spiego, praticamente erano fatti così, no? Come dei tagli graffi così AX e poi anche sotto così AX. E la parte di pelle in centro era stata rimossa tra i tagli. Poi varie mutazioni, come per esempio al capezzolo destro, e alcuni segni come lividi, capelli strappati e ferite alla testa, che indicano una violenza fisica anche a mani nude. Poi, il dettaglio più tristemente noto della vicenda, una lacciazione della bocca, quasi da orecchio a orecchio, che va a formare il cosiddetto Glasgow Smile. Si tratta di una delle ferite più macabre che un pazzo sadico possa infliggere a qualcuno. E la cosa più inquietante ancora è che è quasi sicuro che l'assassino glieli abbia procurate quando lei era ancora in vita. Perché intorno alle ferite si stavano formando dei lividi e dei primi segni di guarigione. Ultimo dettaglio piuttosto macabro di cui però si parla solo in alcune fonti, sono dei tagli a forma di tris. In pratica l'assassino ha inciso il gioco tris sulla pelle della vittima e si è messo a giocare sempre incidendo le X e i cerchi. Però prendete questa informazione con le pinze perché se ne parla in pochi articoli e in casi come questo, molto vecchi e molto famosi, spesso alcune informazioni sono addirittura state inventate di sana pianta dai media dell'epoca per fare più scalpore. E poi sono rimaste ovviamente perché quella è la principale fonte di informazioni di chiunque. Comunque, immaginando un corpo ridotto in questo stato, viene da pensare che ci sia tanto sangue, no? Una scena cruenta. Io per esempio mi ero immaginato l'erba su cui era appoggiata, tutta macchiata di sangue, perché ovviamente cosa succede se un corpo viene tagliato a metà? Ecco. E invece no. Nonostante il vero e proprio maschilacro, sul luogo del ritrovamento non c'è nemmeno una goccia di sangue. Il corpo era stato completamente drenato, prosciugato di tutto il sangue. Per questo a Betty, la signora che per prima ha trovato il corpo, sembrava un manichino. Era completamente pallida, quasi bianca per via della totale assenza di sangue. Chi può aver fatto una cosa del genere? Vi immaginate quanto lavoro, quanta dedizione deve averci messo? È semplicemente un caso senza precedenti. Sempre Betty, riguardo al ritrovamento, ha detto queste parole. Era così bianco che non poteva sembrare altro che un modello artificiale. Era così bianco. E separato nel mezzo. Oltre a questo, gli agenti notano che il corpo era stato eccessivamente pulito, si pensa con una spazzola, in modo da togliere definitivamente anche il sangue che poteva essersi magari seccato su di lei. Era stata proprio pulita con tantissima forza e in alcune parti presentava dei graffi causati proprio da questa spazzola. Pensate con quanta forza deve aver strofinato sto pazzo. E dentro alcune ferite erano rimaste incastrate anche delle setole di questa presunta spazzola. Per via di tutti questi dettagli, i detective capiscono molto in fretta che quella non era la vera scena del crimine. Chiunque le avesse fatto tutte quelle cose, l'aveva fatto in un altro luogo e aveva poi trasportato il corpo fino a lì. Solo dopo averle inflitto tutte quelle ferite e mutazioni. Poi il modo in cui è stato posizionato, il luogo in cui è stato posizionato, era tutto intenzionale e pensato nel minimo dettaglio. L'assassino voleva che venisse trovato. Non vedeva l'ora. La causa della morte, si scoprirà più avanti con l'autopsia, è stata un'emorragia cerebrale, probabilmente provocata da violenti botte alla testa. La vittima infatti aveva parecchi lividi in tutta la testa. Oltre a questo, sempre dall'autopsia, si scopre che era stata legata ai piedi, ai polsi e addirittura al collo. Rivela inoltre, sempre l'autopsia, che non c'è stato alcun abuso sessuale. Sebbene all'interno delle parti intime della ragazza fosse presente una cosa, due cose di cui vi parlerò più avanti, quando analizzeremo i sospetti. C'è anche da dire, comunque, che all'epoca le autopsie non riuscivano proprio a rivelare in maniera precisissima se ci fosse stata effettivamente una violenza sessuale di qualche tipo. Non c'erano proprio gli strumenti per capirlo con assurda certezza, ecco. In ogni caso, sia che ci sia stata che non, si sostiene che la s*****o, con molta probabilità, abbia provato piacere nel fare tutto ciò che ha fatto. Per via delle condizioni terribili in cui riversava il corpo, la polizia capisce subito che non sarebbe stato facile darle un nome, un'identità. Inizialmente la chiamano quindi Jane Doe, il nome che viene dato a qualsiasi vittima che non viene identificata, di genere femminile. Poi però pensano di mandare in analisi le sue impronte digitali all'FBI nella speranza che magari loro trovassero un riscontro nel loro database. E miracolosamente trovano un riscontro. Intanto però i media coniano praticamente da subito il nome Black Dahlia. Poi parleremo brevemente anche di questo. La giovane donna che era stata uccida così brutalmente era la 22enne Elizabeth Short e le sue impronte erano presenti nel database dell'FBI perché era in effetti stata arrestata una volta. Ma sapete che in America arrestano anche per cose poco serie, no? Infatti lei per esempio era stata arrestata per aver consumato dell'alcol prima del raggiungimento della maggiore età. Queste sono le sue foto segnaletiche. Ma chi era davvero la Dahlia Nera? Elizabeth Short nasce il 29 luglio del 1924 a Boston, nel Massachusetts dove passa quasi tutta la sua vita. Diciamo che se ne va da lì solo circa 2-3 anni prima dei fatti. La sua infanzia viene descritta come piuttosto difficile più o meno come l'infanzia di chiunque in realtà in quel periodo. La situazione economica del paese non era delle migliori e la famosa crisi del 29 anche chiamata grande depressione ha toccato particolarmente la sua famiglia perché apparentemente suo padre lavorava nel mercato azionario probabilmente deteneva azioni era un investitore per cui quando nel 29 ci fu il crollo della borsa la sua famiglia si ritrovò a terra nello stesso periodo inoltre il padre di Elizabeth si toglie la vita probabilmente per via delle grandissime difficoltà a mantenere la famiglia la sua auto viene trovata parcheggiata vicino ad un ponte quindi per un bel po' di tempo Elizabeth i suoi fratelli e sua madre rimangono convinti del fatto che l'uomo si sia gettato dal ponte e sia quindi morto ma qualche anno dopo non sono riuscito a capire quanti scoprono che aveva finto la sua stessa morte ed era scappato le cose non andavano più bene aveva fallito e quindi piuttosto che affrontare il fallimento è scappato codardo anche perché non ha abbandonato solo sua moglie ma anche le loro cinque figlie tra cui Elizabeth sua madre allora si trasferisce a Medford sempre in Massachusetts dove in qualche modo lavorando sodo riesce a tirare avanti nonostante le cinque figlie a carico vivono quindi una situazione che definire precaria e modesta sarebbe riduttivo Elizabeth ad ogni modo abbandona gli studi molto presto e comincia a fare la cameriera tuttavia quella vita non le piaceva come vi dicevo all'inizio lei faceva parte di quella generazione cresciuta col cinema che sognava il cinema ed Elizabeth infatti già a 19 anni prende la decisione di provarci decide di provare ad inseguire il suo sogno di diventare attrice però non sa da dove partire non ha conoscenze non ha esperienza ed è a quel punto che le viene in mente una cosa suo padre quel coglione e dico così perché ha fatto cose brutte anche dopo comunque lui viveva a Vallejo a circa due ore da Los Angeles e sapete cosa c'è a Los Angeles? Hollywood quindi la giovane decide di contattarlo e chiedergli di andare a stare da lui e lui accetta ma a patto che lei si occupasse delle faccende domestiche così Elizabeth parte con 800 dollari in tasca e raggiunge suo padre a Vallejo ora il suo sogno poteva cominciare a prendere vita no? no perché solo dopo alcune settimane Elizabeth e suo padre litigano pesantemente a quanto pare la ragazza giovane e libera pensava tanto a divertirsi e tornare tardi e poco alle faccende di casa così dopo questa lite accesa suo padre le dice di andarsene è a questo punto che la ragazza trova lavoro al camp cook di Lompoc vicino a Santa Barbara questo camp cook era un ufficio postale militare che non ho capito bene che cosa sia c'è anche una foto sua insieme ai suoi colleghi dell'epoca in teoria la state vedendo la giovane comunque lavora lì per circa nove mesi prima di trasferirsi a Santa Barbara dove il 23 settembre del 43 viene appunto arrestata per aver bevuto e le viene scattata la famosa foto segnaletica a seguito di questo fatto viene riaccompagnata dalla madre quindi si vede costretta a tornare a Medford e tutto ciò prima ancora di essere riuscita a fare qualcosa nel mondo del cinema non è sicuro ma si pensa che in questo tempo in California abbia provato in qualche modo a fare provini casting e via dicendo però non è sicuro non è sicuro non è sicuro neanche il fatto che ci sia andata per quello è sicuro però che ci avrebbe provato poco più tardi oddio sicuro non lo so perché dicevano tante cose su di lei all'epoca quindi non si sa bene quale informazioni che poi si sono tramandate siano effettivamente vere o quali no a Medford comunque lavora per un breve periodo nella mensa dell'università di Harvard ma capisce presto che quella realtà non fa affatto per lei quindi si sposta di nuovo questa volta in Florida ed è lì che fa la conoscenza di un uomo che la rapisce subito e tenete a mente Elisabeth non era una ragazza facile era bellissima e sceglieva minuziosamente a chi dare le sue attenzioni in Florida comunque conosce il maggiore dell'aeronautica statunitense Matthew M. Gordon Jr. e tra i due scatta subito la scintilla Elisabeth pensa di aver trovato l'uomo della sua vita con lui si trova bene è felice è convinta che sia lui la sua anima gemella peccato però che purtroppo la loro storia non sarebbe andata come previsto la relazione si svolge principalmente attraverso lettere d'amore e in lontananza perché Matthew facendo parte dell'aeronautica militare era praticamente sempre in missione tenete a mente che la seconda guerra mondiale ancora non era finita comunque in una di queste lettere che si sono scambiati l'uomo chiede ad Elisabeth di sposarlo e lei ovviamente dice di sì non vedeva l'ora di farlo in realtà di mettere su famiglia di stabilirsi al che lui le promette che si sarebbero sposati non appena sarebbe tornato dalla guerra peccato però che appena un mese prima della fine della guerra Matthew perde la vita in un incidente aereo e così insieme a lui muoiono anche quelle promesse e quell'amore tanto desiderato Elisabeth è distrutta fa davvero fatica ad accettare ciò che era successo pensava sul serio che avrebbe passato il resto della sua vita con quell'uomo e invece da un momento all'altro tutto è cambiato durante il lutto l'unica cosa in grado di restituire un po' di serenità alla ragazza è il cinema insieme ai suoi amici Elisabeth va spesso in sala a vedere i suoi film di Hollywood preferiti quando è lì riesce a non pensare a niente il dolore si affievolisce e al tempo stesso cresce ancora di più in lei la voglia di far parte di quel mondo fantastico che era Hollywood fantastico nei film poi ormai non aveva più niente che la legava lì così nel luglio del 1946 decide di ripartire in direzione California California tagliala alcuni pensano che sia durante la sua permanenza lì che sia stato coniato il nome Black Dahlia un po' per via della sua passione per il film La Dahlia Azzurra e un po' per la sua abitudine di vestirsi spesso di nero poi vabbè anche per via del fatto che i suoi capelli fossero di un nero corvino e per il fatto che mettesse spesso dei fiori nei capelli e la Dahlia è un fiore io l'ho scoperto solo facendo questo video vabbè non è però sicuro al 100% che sia per questo alcuni ritengono di sì altri invece pensano sia stato coniato solo dopo la sua morte dai media questo comunque non è il punto il punto è che una volta in California teoricamente a Los Angeles ma non ne sono sicuro Elisabeth cerca in ogni modo di entrare a far parte del mondo del cinema vuole diventare un'attrice con tutta se stessa o almeno questo è quello che si dice quindi si pensa che abbia cominciato a fare provini su provini audizioni concorsi ma nessuno di questi purtroppo nel breve periodo in cui è stata lì è andato a buon fine anche qui però non ci sono documenti o prove effettive che sia andata così sicuramente in ogni caso purtroppo non ha mai partecipato a nessun film così comunque si vede costretta a fare dei lavori umili giusto per sopravvivere e per trovare un posto dove stare fa fatica specialmente a trovare un tetto sotto la testa infatti si crede che in quel periodo si sia affidata ad un ricco uomo d'affari di Los Angeles il 55enne Mark Hansen di cui parleremo meglio verso la fine del video ad ogni modo Elisabeth in quel periodo a Los Angeles si stanca tantissimo è proprio distrutta non riesce in nessun modo ad arrivare a fine mese e così l'8 dicembre del 46 dopo aver pagato a stento il suo ultimo mese d'affitto decide di prendere un bus per San Diego dove arriva verso le 6 del mattino successivo lì a San Diego quello stesso giorno conosce una donna di nome Dorothy French la cassiera di un teatro le due si mettono a parlare Elisabeth le racconta la sua storia e la donna rimanendo colpita da tutte le difficoltà che quella giovanissima donna aveva dovuto affrontare la invita a rimanere da lei almeno per quella giornata sarebbe dovuta rimanere da lei per un solo giorno ma ha finito per rimanerci l'intero mese è stata Dorothy insieme ai suoi figli a dirle che sarebbe dovuta andarsene perché non ci stavano più in casa non ci stavano così dopo circa un mese dal suo arrivo Elisabeth riferisce alla donna che un uomo sarebbe andato a prenderla per riportarla a Los Angeles un uomo di nome Red dopo la sua partenza l'8 gennaio e dopo il suo arrivo in un hotel il giorno dopo nessuno ha più avuto notizie di lei arriviamo così al 15 gennaio del 1947 il giorno in cui Elisabeth viene trovata in condizioni terrificanti sul ciglio della strada come potete immaginare la notizia fa subito il giro di tutto il paese i media impazziscono proprio era una storia senza precedenti e ci vedono quindi un'opportunità per creare titoli sensazionalistici e ricucire attorno alla Black Dahlia dei dettagli spesso esagerati anche per questo come vi dicevo oggi si trovano molte informazioni che potrebbero essere false per esempio giusto per aggiungere un po' di scandalo alla storia già scandalosa di per sé sono cominciate a girare delle voci secondo cui Elisabeth era in realtà una prostituta e che faceva cose anche nel mondo dell'intrattenimento per adulti e che quindi a causa di tutto questo giro si è trovata di fronte delle persone pericolose che l'hanno ridotta in quel modo voci ovviamente infondate e quasi sicuramente non vere cioè al 99,9% non vere hanno cominciato comunque a circolare solo per scandalizzare ancora di più il pubblico che all'epoca si scandalizzava anche per queste cose ad ogni modo il ritrovamento di Elisabeth suscita uno scalpore un interesse e uno shock davvero senza precedenti era una scena troppo cruenta chi mai avrebbe potuto fare una cosa del genere ad una giovane ragazza i cittadini di Los Angeles non si sentivano più al sicuro intanto dopo aver identificato il corpo grazie alle impronte digitali gli investigatori risalgono al nome del padre di Elisabeth Clio Short si recano così alla sua abitazione per informarlo del fatto che il corpo di sua figlia era stato ritrovato senza vita una notizia che nessun genitore vorrebbe mai sentire nessuno tranne lui cioè oddio non è che volesse proprio sentirlo però insomma all'arrivo degli agenti l'uomo apre la porta ubriaco e incazzato e si rifiuta categoricamente anche solo di andare in centrale per identificare il corpo non gliene frega nulla e tenete a mente non vedeva o sentiva sua figlia da quella volta in cui avevano litigato quando viveva da lui io non ho parole cioè davvero capite perché prima ho detto che era un coglione ecco comunque ovviamente dopo di lui deve essere informata anche sua madre no? ecco ad informarla questa volta non è la polizia ma i giornalisti perché all'epoca da quanto ho capito i media e la polizia lavoravano a stretto contatto quindi penso che abbiano avuto l'ok dalle forze dell'ordine per chiamare sua madre ovviamente questi dettagli non li conosciamo ad ogni modo un giornalista anziché informarle basta fa una cosa a dir poco schifosa chiama la madre di elisabeth phoebe my short che ancora stava in massachusetts e anziché dirle la verità si inventa una balla per cercare di estrapolare più informazioni possibili riguardo sua figlia in modo tale da poterle inserire in un articolo di giornale praticamente chiama dicendole che sua figlia aveva vinto un concorso di bellezza a los angeles e che quindi volevano scrivere un articolo celebrativo su di lei in cui raccontavano un po' chi era la sua vita le sue abitudini tutto ciò che faceva e che le piaceva e phoebe contentissima perché ignara del fatto che fossero balle racconta tutto quanto a questo giornalista parla anche in maniera molto fiera di sua figlia perché credeva davvero che lei avesse la stoffa avesse quello che serviva per diventare un'attrice di successo e il fatto che avesse vinto un concorso di bellezza era forse il primo step che l'avrebbe portato ad arrivare in alto insomma dà al giornalista tutte le informazioni che gli servono e una volta ottenute quest'ultimo cambia drasticamente tono e rivela a phoebe tutta la verità sua figlia non aveva vinto nessun concorso era stata brutalmente assassinata quanto fa schifo questa cosa cioè come fai proprio umanamente a mentire così alla madre della vittima di un omicidio così cruento io davvero ero senza parole quando ho letto questa cosa cioè è allucinante è inumano ad ogni modo phoebe dilaniata dal dolore si reca in california per reclamare il corpo e per dare alla sua povera figlia una degna sepoltura ovviamente sono dovuti passare un po' di giorni perché in effetti il corpo era praticamente l'unico indizio che aveva la polizia e inoltre per consegnarlo alla famiglia hanno dovuto praticamente ricucirlo e in sostanza imbalsamarlo in modo che fosse presentabile ragazzi ogni cosa riguardo questo caso è semplicemente terrificante e non oso immaginare come si sia sentita phoebe a scoprirlo in questo modo e poi a vedere il corpo di sua figlia ricucito imbalsamato oddio il funerale infatti si è svolto il 25 gennaio del 47 nel cimitero di mountain view ad oakland e quelli che vedete nella foto di fronte alla bara sono sua madre phoebe sua sorella virginia e il suo fratellastro ac white distrutti dal dolore intanto le indagini procedono non a rilento di più gli investigatori non hanno nulla su cui lavorare se non qualche nome delle persone vicine ad elisabeth per cominciare sentono betty la donna che ha trovato il corpo mentre era in giro a fare commissioni ma le informazioni che riesce a dare lei non aiutano affatto anche perché non aveva più informazioni rispetto a quelle che già aveva dato il giorno del ritrovamento essendo comunque un caso diventato famosissimo da subito le persone hanno cominciato a parlarne e parlarne e parlarne ancora e alcune di queste addirittura hanno cominciato a confessare di essere gli assassini oppure di avere delle prove tutte piste che però sebbene la polizia abbia analizzato non hanno portato assolutamente a nulla intanto i giorni passavano e in casi come questo anche solo una giornata senza ulteriori prove o indizi può significare il fallimento nell'identificazione dell'assassino dal ritrovamento del corpo passano tre giorni poi quattro e poi cinque e la polizia si ritrova senza nulla in mano qualche pista sì ma tutte dedotte da prove circostanziali che si sarebbero dovute comunque analizzare e approfondire di più nei giorni successivi arrivati a questo punto il caso sembra in una situazione di stallo questo almeno fino al 21 gennaio sei giorni dopo il ritrovamento del corpo quando il Los Angeles Herald Examiner un giornale locale riceve una telefonata da una persona che dice di essere l'assassino della Black Dahlia quest'uomo perché parliamo di un uomo ha un tono di voce molto pacato e tranquillo ma nelle cose che dice spicca la sua sicurezza di sé e attratti la sua sfrontatezza è estremamente fiero di ciò che ha fatto la Black Dahlia e si vanta di essere riuscito a sfuggire alla polizia per tutto quel tempo la sua chiamata sembra ancora una volta una performance come se avesse studiato minuziosamente il suo personaggio e fosse entrato nel ruolo di un killer spietato e impossibile da catturare quella chiamata fa rabbrividire gli ascoltatori l'uomo inizia congratulandosi col giornale per il modo in cui stava parlando del caso quindi un modo molto esagerato e scenografico proprio come piaceva a lui poi però continua quasi prendendoli in giro per essere in una situazione di stallo e quindi si offre di dare loro delle informazioni aggiuntive anzi informazioni e prove in più che avrebbero aiutato alla risoluzione del caso capite quanto era sfrontato c'è un killer che sa di essere un passo avanti alla polizia o come direbbe Nicocado Avocado two steps ahead perché non solo non era stato ancora catturato ma era anche talmente sfacciato e sicuro di sé da proporsi per dare loro ulteriori indizi nella telefonata dice letteralmente di avere dei souvenir di Beth Short parole sue e il fatto di averla chiamata Beth ha insospetito parecchio giornalisti e polizia perché in tutti gli articoli su di lei era sempre stata chiamata Elisabeth mai Beth Beth era invece un diminutivo con cui la chiamavano parenti e amici quindi il killer se davvero era lui dall'altra parte del telefono doveva conoscerla bene interrompe poi la chiamata subito dopo aver detto che avrebbe mandato questi souvenir per posta direttamente agli uffici del quotidiano gli agenti rimangono un attimo destabilizzati dopo aver ricevuto questa notizia insomma finalmente potevano partire ad indagare su qualcosa di concreto però al tempo stesso c'era una grande possibilità che quella chiamata fosse stata fatta da un charlatano non rimaneva che attendere quei fantomatici souvenir e inaspettatamente solo due giorni dopo il servizio postale ferma un pacco indirizzato all'ufficio del Los Angeles Herald Examiner il killer aveva mantenuto la sua promessa nella lettera c'è una frase formata da alcuni ritagli di articoli di giornale che legge Los Angeles Examiner e altri giornali di Los Angeles ecco gli oggetti personali di Dalia lettera a seguire all'interno della busta c'erano davvero alcuni oggetti personali di Elisabeth come alcune fotografie la sua carta di identità addirittura il suo certificato di nascita ma la cosa più strana all'interno della busta era una rubrica una rubrica che sicuramente non apparteneva ad Elisabeth perché c'era scritto sopra un altro nome il nome di Mark Hansen di cui se ricordate vi ho accennato qualcosina poco fa e di cui parleremo ancora tra poco e dopo ancora lo so ragazzi è un casino questa storia non ditemi niente dai alcune delle pagine di questa rubrica erano state strappate come a voler nascondere qualche magari informazione presente all'interno di quelle pagine magari qualche contatto forse proprio il contatto dell'assassino tutto il resto all'interno della busta comunque apparteneva invece ad Elisabeth e secondo il killer erano tutti oggetti che si trovavano all'interno della sua borsetta il giorno della sparizione tutto questo è estremamente inquietante e era stato per forza l'assassino ad aver mandato quegli oggetti e gli agenti ovviamente si mettono subito al lavoro per cercare di capire qualcosa in più fanno tutte le analisi del caso sulla busta e sugli oggetti e scoprono che erano stati tutti puliti con la benzina in modo tale che non risultassero impronte digitali in nessuno degli oggetti ora la polizia scoprendo questa cosa è ancora più sconcertata perché l'assassino con cui avevano a che fare non solo era esperto in medicina e anatomia ma sapeva anche come sfuggire alle forze dell'ordine e come nascondere in maniera efficace qualsiasi indizio che avrebbe potuto portare a lui sapeva semplicemente troppo era troppo bravo a non farsi individuare gli oggetti inviati all'ufficio del giornale purtroppo non portano quasi a nulla danno solo la conferma alla polizia che in effetti chiunque li avesse inviati era l'assassino per cui gli investigatori decidono di focalizzarsi sull'unico diciamo oggetto che non apparteneva ad Elizabeth ma che per qualche motivo aveva lei quel giorno ovvero la rubrica di Mark Hansen riescono a rintracciare questo Mark molto in fretta per fortuna e scoprono che in effetti conosceva Elizabeth Mark Hansen era un uomo di 57 anni un uomo d'affari di successo ad Hollywood e all'epoca possedeva almeno due abitazioni secondo quanto si dice Mark era un uomo a cui la compagnia delle donne piaceva molto e infatti prometteva alle donne in difficoltà specialmente le giovani donne in difficoltà un posto dove stare anche solo per qualche giorno ecco si crede che Elizabeth lo conoscesse per via di questo è molto probabile quasi sicuro che sia stata ospitata da lui qualche volta in cambio della sua semplice compagnia quando quindi la polizia gli fa domande riguardo alla rubrica lui dice semplicemente che la stava usando come se fosse la sua perché a quanto pare all'interno avevano diversi contatti in comune con solo queste informazioni e senza ulteriori prove quindi la polizia non può fare nulla ma intanto continua a tenere Mark nella lista dei sospettati anche se pensateci no sarebbe stato stupido da parte sua mandare la sua stessa rubrica con il suo nome scritto sopra al giornale e la polizia sapeva che il killer non era stupido non poteva essere lui no? fosse stato Mark non avrebbe dimenticato la sua rubrica con sopra il suo nome alla fine si era accuratamente ricordato di rimuovere ogni traccia delle impronte digitali non avrebbe mai fatto una cosa così stupida insomma al momento questa pista si conclude momentaneamente con un nulla di fatto e gli investigatori non possono far altro che continuare a cercare ogni indizio ogni prova e ogni altra pista possibile ma inaspettatamente solo due giorni dopo rispetto al ricevimento degli oggetti all'ufficio del giornale arriva un'altra lettera questa volta scritta a mano nella lettera inoltre c'era anche specificato un luogo e leggendolo ovviamente la polizia pensa che si tratti del luogo in cui il killer si sarebbe automaticamente consegnato il mattino del 24 gennaio per arrendersi cioè sarebbe arreso sarebbe andato lì per essere arrestato dalla polizia quindi le forze dell'ordine si recano proprio lì nel giorno e nell'orario indicati nella lettera ma nessuno si fa avanti sarà stato forse un altro scherzo una sorta di presa in giro dell'assassino come per dire ecco sono riuscito addirittura a far credere che mi sarei consegnato e loro sono andati lì a vedere che stupidi cioè io me lo sono immaginato un po' così non lo so mi sembra proprio che li stesse prendendo in giro e infatti poco dopo l'arrivo della seconda lettera ne arriva una terza questa volta è nuovamente però scritta tagliando le parole e le lettere da articoli di giornale e legge ho cambiato idea non mi riservereste un buon trattamento l'uccisione di Dalia è giustificata a questo punto gli investigatori vengono presi dallo sconforto sia perché si sentono giustamente presi in giro sia perché sapevano che avrebbero dovuto trovare un colpevole in fretta eppure niente di tutto quello che stavano facendo sembrava funzionare l'assassino era semplicemente più intelligente sapeva fin troppo bene ciò che faceva e questo spaventava anche la polizia insomma tutto questo casino non porta assolutamente a nulla la polizia non sa più che cosa fare pensate sono stati coinvolti in tutto 750 investigatori da tutto il paese e ancora non erano riusciti a trovare una pista decente con prove che valesse la pena approfondire cioè di prove non ce n'erano proprio il caso in quel momento è sulla bocca di tutti tutte le persone hanno paura vogliono risposte vogliono che qualcuno sia incriminato per quell'orribile ma come ora noi sappiamo tutto ciò non sarebbe accaduto ad oggi nessuno è mai stato incriminato per questo il coppevole effettivo non si è mai trovato nessuna prova schiacciante tuttavia durante i mesi gli anni e poi i decenni successivi ai fatti sono stati individuati vari sospetti alcuni di loro anzi la maggior parte sono stati lasciati perdere subito perché era ovvio che non fossero collegati altri però diciamo sono più interessanti ce ne sarebbero in realtà tantissimi da approfondire ma mi focalizzerò su tre di loro o meglio quattro cioè cinque perché in uno ce ne sono due andiamo con ordine nelle fasi iniziali delle indagini la polizia riesce a rintracciare Dorothy French ve la ricordate no? la donna da cui era andata a vivere Elizabeth a San Diego per un mese ecco parlando con lei scoprono che quando se n'è andata da lì come vi dicevo prima si era fatta dare un passaggio da un certo Red e poi Dorothy non ha più avuto notizie di lei e solo pochi giorni dopo è stata ritrovata senza vita quindi ovviamente gli investigatori si concentrano su questo Red chi cavolo poteva essere cos'ha a che fare con Elizabeth Short molto in fretta risalgono al suo vero nome Robert Manley chiamato da tutti Red per via dei suoi capelli rossi Robert era un ex militare che conosceva Elizabeth in realtà da pochissimo tempo l'aveva incontrata per la prima volta da circa un mese cioè circa un mese prima dell'omicidio era andato a parlarle perché vedendola ad una fermata del bus passando in macchina era rimasto ammaliato dalla sua bellezza si era quindi fermato e aveva tentato di avviare una conversazione con lei ma lei sembrava non volerci parlare non era interessata allora lui tentando il tutto per tutto le aveva chiesto se avesse bisogno di un passaggio in macchina e lei in realtà ne aveva bisogno in quel momento così ha accettato e da quel momento i due avevano cominciato a vedersi sporadicamente uscire ogni tanto tenete a mente tutto questo circa un mese prima dell'omicidio l'ultima volta che si erano visti secondo le parole di Redd alla polizia era stato l'8 gennaio del 47 il giorno prima rispetto alla sparizione di Elizabeth e questo è il motivo che spinge tante persone compresa la polizia all'epoca a credere che sia stato lui a toglierle la vita perché quel giorno l'8 gennaio Redd è andato a prenderla a San Diego e l'ha portato a Los Angeles per una sorta di appuntamento una volta lì però la ragazza ha perso l'ultimo pullman e così i due sono rimasti in un motel per la notte una notte in cui Redd ci tiene a dire non è successo niente tra i due anche perché tra l'altro lui era sposato da circa un anno e la sua giustificazione per il fatto di aver visto più volte Elizabeth è stata che stava provando a vedere se amasse effettivamente sua moglie cioè se davvero fosse riuscito a tradirla infatti secondo le sue parole non ci è riuscito quindi significava che la amava davvero ok comunque il mattino successivo il mattino quindi del 9 gennaio del 47 racconta di aver lasciato Elizabeth al Biltmore Hotel di Los Angeles un luogo in cui in effetti è stata vista da alcuni testimoni e anche ultima volta che qualcuno l'ha vista in vita quel giorno poi è scomparsa nel nulla e poi il suo corpo come sapete è stato ritrovato il 15 gennaio sei giorni dopo questa comunque era la versione di Redd che da subito si proclama al 100% innocente la polizia però in quel momento crede ancora che l'assassino sarebbe potuto essere lui quindi procede a trattarlo come un sospettato lo arresta ma alla fine Redd acconsente a fare ben due test al poligrafo la macchina della verità test che riesce a passare ora sappiamo che non sono affatto uno strumento adeguato e adatto accurato su cui basare l'innocenza di un sospettato ma all'epoca il fatto che lui avesse voluto fare il test non una ma ben due volte ed entrambe le volte l'avesse passato era abbastanza per scagionarlo inoltre la polizia non aveva assolutamente nessun'altra prova contro di lui per cui è stata quasi costretta a rilasciarlo e quindi anche la sua pista si conclude con un nulla di fatto prima di proseguire con gli altri sospettati però voglio dirvi un fatto piuttosto strano che ho trovato riguardo a lui e che è venuto fuori solo decenni dopo gli eventi praticamente Redd è morto nello stesso giorno in cui ha visto per l'ultima volta Elizabeth ma 39 anni dopo cioè esattamente lo stesso giorno il 9 gennaio ma di 39 anni dopo ed è morto sapete come? per essere accidentalmente caduto dall'ultimo piano del palazzo in cui viveva strano cioè alcuni infatti credono che in realtà si sia tolto la vita in quell'esatto giorno a distanza di anni perché era lui l'assassino e non riusciva più a convivere con ciò che aveva fatto però cosa ne pensate poi cioè in effetti è strano e lui potrebbe davvero essere l'assassino però potrebbe anche essere una coincidenza fatemi sapere adesso però comunque noi continuiamo con gli altri sospettati a quasi 4 anni dal ritrovamento il caso è totalmente fermo o come si dice freddo ma il 24 novembre del 1950 la polizia riceve una confessione interessante attenitamente ci sono stati anche altri sospettati ovviamente tra il 47 e il 50 anche più credibili di quella di cui vi sto per parlare ve ne parlerò dopo voglio parlarvi prima di questo ok? ok allora il 24 novembre del 50 una donna di 34 anni di nome Christine Reynolds confessa di essere l'assassino a questo punto era la 27esima persona a confessare pensate e ce ne saranno in realtà in totale più di 50 una cosa che davvero io non capisco c'è tutte queste persone che dicono di aver commesso un omicidio quando in realtà non sono state loro perché? non lo so comunque questa volta è diverso Christine ha un'informazione e una storia molto particolari la donna racconta che nel periodo dell'omicidio Elizabeth in realtà viveva con lei ma si faceva chiamare Libby le due secondo la sua versione si erano incontrate in un bar di Hollywood poco tempo prima e da quel momento avevano cominciato una frequentazione occasionale dice che si vedevano facevano le loro cose capitemi e questa informazione subito viene fatta girare dai media perché siamo negli anni 50 relazione sessuale tra due donne scioccante no? quindi i media ci hanno marciato sopra aggiungendo ovviamente anche questa ulteriore cosa che all'epoca scioccava ed è una cosa tristissima comunque Christine continua dicendo alla polizia che in quel periodo Elizabeth si stava anche frequentando con altre donne fatto che l'aveva comunque fatta parecchio arrabbiare quindi quattro notti prima del ritrovamento Christine era a casa ubriaca che aspettava il ritorno di Elizabeth ma più passava il tempo e più si irritava perché Elizabeth non tornava a casa e Christine sapeva che sicuramente era con un'altra donna per questo non tornava a casa per cui è uscita alla fine ed è andata a cercarla e le sue paure sono diventate realtà perché l'ha trovata in un bar con un'altra donna di nome Louise così l'ha presa quasi di forza e l'ha fatta salire in macchina per riportarla a casa una volta arrivate al parcheggio davanti casa però le due hanno cominciato a litigare in maniera molto pesante molto violenta al punto che Christine ad un certo punto ha iniziato a str***arla Elizabeth però alla fine è riuscita a liberarsi e scappare lungo il vialetto Christine però ha cominciato a seguirla con la macchina e una volta raggiunta tenetamente era ubriaca marcia secondo quello che ha detto ha tirato fuori un coltello per minacciarla di rientrare in macchina e tornare a casa e poi racconta agli agenti non ricorda bene che cos'è successo sa solo di averla coltata e lasciata lì sull'erba a morire gli agenti però non credono a nulla perché se fosse davvero andata così la scena sarebbe stata piena di sangue ovunque qualcuno poi l'avrebbe sicuramente notata prima e Elizabeth non sarebbe stata ritrovata tagliata in due cioè c'era un po' di differenza tra le due versioni no? c'è però un dettaglio un'informazione particolare che dà Christine un'informazione che poteva sapere solo la polizia e l'assassino perché non era stata resa pubblica Christine dice alla polizia più o meno queste parole le ho strappato un po' di quei dannati capelli e gliele ho infilati su per la sua c***o di figlia ecco una signora questa Christine ora la polizia rimane sconcertata perché in effetti dentro le parti intime di Elizabeth avevano trovato un po' di suoi capelli strappati e messi lì dentro dall'assassino quindi gli investigatori le fanno un po' di pressione le dicono che sapevano che stava mentendo perché le cose non tornavano c'era solo quel dettaglio che proprio non riuscivano a spiegarsi come faceva a saperlo? magari sapeva qualcosa conosceva magari l'assassino a quel punto però Christine crolla e confessa la verità dice agli agenti che un'amica che lavorava in polizia le aveva raccontato quel macabro dettaglio quindi anche questo si rivela nulla cioè cadono subito tutti i dubbi su di lei però cosa interessante Christine continua raccontando di aver mentito su questa storia perché due giorni prima del ritrovamento del corpo di Elizabeth si era svegliata con un sacco di sangue addosso però non ricordava che cosa fosse successo la notte precedente perché era molto uriaca quindi quello stesso giorno racconta si era presentata in centrale di polizia con i vestiti sporchi di sangue dicendo di aver fatto qualcosa di brutto ma dato che non riusciva a ricordare che cosa l'hanno semplicemente lasciata andare non so come sia possibile comunque da quel momento Christine non è più riuscita a convivere con questa cosa pensava davvero di aver ucciso qualcuno e voleva capire voleva ricordare e voleva anche pagare per quello che aveva fatto col tempo ha probabilmente cercato di spiegare questa cosa attribuendo quel sangue alla Black Dahlia anche se con lei in realtà non ci aveva mai avuto niente a che fare fatto sta che secondo me avrebbero dovuto indagare un pochino su di lei e se davvero aveva ucciso qualcuno ad ogni modo questa persona che ha dato le informazioni a Christine non è mai stata trovata non si sono neanche mai interessati a trovarle in realtà altra cosa che trovo assurda uno di loro una della polizia stava dando in giro informazioni top secret informazioni che se condivise avrebbero potuto far andare male le indagini far andare tutto all'aria indagini che tra l'altro stavano già andando piuttosto male ma vabbè non hanno fatto nulla sempre gli anni 40 arriviamo così al terzo sospettato e per questo ragazzi non siete pronti vi dico solo che mi ha ricordato PDD conoscete no? ecco il terzo sospettato di cui voglio parlarvi è George Hodel quest'uomo è stato indagato anche a poco tempo dall'inizio delle indagini ma prima voglio parlarvi di quello che è successo tanto tempo dopo nel 1999 George Hodel è morto e suo figlio Stephen che non è il primo rincoglionito ma un ex agente di pulizia di Los Angeles più di preciso un agente un detective dell'omicidi ha cominciato a sospettare che suo padre George non solo fosse l'assassino della Dalia Nera ma addirittura un serial killer tutto è partito quando appunto nel 1999 dopo la morte di suo padre Stephen stava rovistando tra le sue cose per mettere a posto capire dove mettere le cose negli scatoloni insomma le cose che si fanno in questi casi e in quel momento rovistando un po' in giro ha trovato un vecchio album di vecchie fotografie che apparteneva ovviamente a suo padre in questo album oltre a foto di famiglia e foto di persone sconosciute che partecipavano alle feste di suo padre ha trovato queste foto qui dal momento in cui le ha viste si è convinto che quella ragazza fosse Elizabeth Short la Black Dalia e ne è ancora convinto anche se secondo me palesemente non è lei c'è una leggera somiglianza sì ma non mi sembra sicuramente abbastanza per accusare un genitore di omicidio no? e infatti non è l'unica cosa che l'ha fatto dubitare anzi innanzitutto giusto per darvi un po' di contesto suo padre era stato indagato per l'omicidio di Elizabeth e seconda cosa posso dire era una persona di merda ma perché era stato indagato? all'epoca dei suoi amici e conoscenti avevano riconosciuto Elizabeth nelle foto sui giornali quindi qualcuno in maniera anonima ha riferito alla polizia di ricordare quel volto di ricordare di averla vista in particolare con George alle sue feste dicono addirittura che stessero insieme ma non penso proprio io vorrei capirete il perché insomma queste persone ricordavano di averla vista in qualche festa no? a casa di George che era risaputo faceva feste piuttosto losche ah e questa era casa sua era una villona molto particolare costruita per sembrare una sorta di tempio maia esatto perché George era super ricco e super influente nella Los Angeles di quegli anni era possiamo dire un ginecologo comunque un medico e anche un chirurgo medico chirurgo e aveva fatto carriera in quell'ambito non perché avesse una passione verso la medicina per la ginecologia ma per la sua passione per il suo stesso figlio e non solo lui ritiene che George fosse un malato di sesso proprio dipendente da sesso che a quanto pare veniva praticato con giovani donne durante questi festini e non solo con giovani donne ma tra un attimo ci arriviamo vi giuro mi ricorda Pitt Diddy è praticamente lui ma negli anni 40 è assurdo nel 49 era stato accusato dalla sua stessa figlia una dei tantissimi figli che aveva tra l'altro ne aveva tantissimi perché aveva fatto cose con tantissime persone comunque accusato di averla abusata sicuramente sua figlia che aveva solo 14 anni era anche rimasta incinta a quanto pare proprio a causa di questi abusi George poi ha anche provato a eseguire un aborto su sua figlia che però non è andata a buon fine e il bambino è quindi nato ed è stato dato in adozione queste accuse gravissime hanno anche portato l'uomo al processo e infatti qui lo vediamo nel 49 arrestato proprio per via di questo tuttavia il processo non ha portato a nulla e George è stato rilasciato ci sono davvero poche informazioni riguardo tutto questo ma si pensa che l'uomo abbia pagato giudice polizia e giuria per essere scagionato dalle accuse e sinceramente non mi sorprenderebbe anche perché la polizia di Los Angeles di quegli anni a quanto pare non solo la polizia un po' tutti erano facilmente corrompibili diciamo così comunque a quanto pare la polizia era a conoscenza diciamo di questa situazione decisamente borderline ok ed era a conoscenza del potere smisurato che aveva George forse anche per questo il fatto che stessero indagando su di lui per l'omiglio di Elizabeth non è stato reso pubblico fino a decenni dopo pensate vabbè ad ogni modo conoscendo tutto questo gli investigatori pensano di dover indagare più a fondo su di lui ma sapevano che non sarebbe stato facile lui non avrebbe confessato non avrebbe detto neanche una parola così decidono di fare una cosa particolare e mettere delle cimici dentro la sua casa per ascoltare le sue conversazioni di tutti i giorni la loro speranza era quella di registrare qualcosa di incriminante ecco un giorno mentre George è al telefono dalle cimici sentono una donna urlare e poi poco dopo di nuovo un urlo la cosa più strana ancora è che nessuna donna sarebbe dovuta essere lì in quel momento questa donna non era in nessuna delle conversazioni non era mai stata registrata fino a quel momento così la polizia si presenta a casa sua controlla un po' la situazione in teoria e poi semplicemente se ne va e se se ne va significa che non hanno trovato nulla no? ma a sto punto mi viene da pensare che forse George in quel momento ha pagato anche quegli agenti per andarsene era tutto troppo strano fidatevi perché poco dopo la polizia grazie alle cimici sente George fare un'altra chiamata nella quale dice qualcosa del tipo mettere un cuscino sulla sua faccia e coprirla con una coperta il che mi fa pensare che si riferisse a quella donna sentita prima urlare e che la polizia non avesse controllato un bel niente per un motivo o per l'altro sembra che in quel momento il momento delle urla abbia ucciso o fatto svenire una donna per poi dire al telefono dopo quello che avrebbe fatto per finire il lavoro non lo so che ansia e dopo questa cosa qui la polizia non ha fatto assolutamente nulla ma ultima cosa molto sospetta che sentono George dire grazie alle cimici sono queste parole supponendo che io abbia ucciso la Black Dahlia comunque non potrebbero provarlo ora non possono neanche più parlare con la mia segretaria perché è morta poco prima infatti la segretaria di George una donna di nome Ruth Spaulding era morta apparentemente per un overdose e ora il collegamento che viene istantaneo è che forse questa segretaria sapesse qualcosa riguardo la morte di Elizabeth e quindi George l'avesse uccisa per impedire che parlasse assurdo cioè le prove comunque erano lì non era una confessione ma insomma eppure non l'hanno arrestato non subito almeno mai in realtà cioè per questa cosa qui perché la polizia riesce a raccogliere abbastanza prove per arrestarlo verso l'aprile del 1950 ma in quel momento lui era già scappato via nelle Filippine più di preciso quindi secondo dinamiche che sinceramente non ho capito perché non vengono spiegate da nessuna parte George è stato lasciato stare totalmente come se nulla fosse successo eppure moltissime persone credono che sia lui il vero assassino della Black Dahlia troppe cose tornano sicuramente aveva sia le conoscenze che la privacy per poter fare tutte quelle cose orribili sulla povera Elizabeth era un medico chirurgo la conosceva era già stato accusato di gravi crimini insomma poi la frase riguardo la sua segretaria cioè c'erano davvero tantissimi collegamenti eppure nulla ah inoltre poco dopo il suo arrivo nelle Filippine a quanto pare è sempre un a quanto pare ci fu un altro video molto simile a quello di Elizabeth in cui una giovane donna venne trovata sulla strada tagliata in due questo nelle Filippine dopo che è arrivato lui ora molte di queste cose non sono affatto sicure si tratta di accuse testimoni teorie a volte anche solo voci ma è quello che accade quando in questi casi non c'è un processo quindi dobbiamo parlare soprattutto di a quanto pare perché sono cose che non sono mai state provate verificate al 100% tranne le indagini della polizia che quelle ok in teoria sono andate come poi hanno dichiarato speriamo suo figlio comunque Steven ritiene ancora oggi che George sia l'assassino di Elizabeth e ha dedicato la sua vita dopo la pensione a cercare di provare questa sua teoria e ricordate che era un detective dell'omicidi ha anche scritto un libro in cui spiega tutti i suoi collegamenti e rimane fermamente convinto delle sue supposizioni pensa anche che suo padre sia lo zodiac killer ma vabbè questo direi che è un'altra storia potenzialmente comunque potrei fare letteralmente un intero video solo su sto George e sulle indagini postume di suo figlio ve lo giuro ragazzi ho dovuto tagliare tantissime cose su di lui ad ogni modo anche la pista di George per un motivo o per l'altro viene scartata arriviamo al quarto e quindi al quinto sospettato gli ultimi di cui voglio parlarvi cominciamo con Leslie Dillon Leslie era un fattorino che era stato indagato ai tempi ma che per mancanza di prove era stato rilasciato ma nel 2017 quindi tantissimo tempo dopo un'autrice di nome Pew Itwell ha pubblicato un libro in cui dice di aver risolto il caso o meglio spiega la sua teoria questo è il libro libro nel quale sospetta proprio di Leslie Dillon secondo la sua teoria Leslie era sì colpevole ma era solo tra virgolette un sicario che ha agito per conto di qualcun altro in cambio di denaro ma chi mai può aver pagato quest'uomo al fine di commettere un omicidio del genere ecco ricordate a chi apparteneva a quella rubrica che stava dentro la borsa di Elizabeth ecco secondo l'autrice era stato Mark Hansen a commissionare l'omicidio come detto prima Mark era una persona piuttosto ricca era il proprietario di alcuni nightclub a quanto ho capito e aveva un sacco di conoscenze era anche stato sospettato dalla polizia che probabilmente già all'epoca aveva comunque pensato alla teoria secondo cui avesse assunto un sicario specialmente Leslie Dillon perché appunto anche lui era stato sospettato ancora una volta però nonostante i sospetti la polizia li aveva lasciati andare fin troppo in fretta e senza fare ulteriori accertamenti perché tanto cosa che sinceramente fa pensare ancora una volta che le forze dell'ordine siano state corrotte magari proprio dallo stesso Mark che di soldi ne aveva ad ogni modo si pensa che Mark fosse letteralmente ossessionato da Elizabeth pensava fosse bellissima voleva sempre averla intorno voleva sempre averla vicina lei però ovviamente non ci stava lui era molto più grande di lei e in generale come già vi ho detto Elizabeth sceglieva con molta cura le persone con cui passare il suo tempo specialmente dopo la morte del suo fidanzato in guerra nonostante questo ogni volta che la vedeva Mark provava a parlarci andava da lei insomma ci provava cosa abbastanza vicida vista la sua età ma vabbè e lei comunque ogni volta non ci stava quindi questo potrebbe essere il suo movente però era troppo ricco troppo conosciuto e troppo importante per sporcarsi le mani quindi avrebbe pagato Leslie per compiere la sua vendetta e Leslie tra l'altro cosa molto importante aveva lavorato come assistente in un obitorio quindi insomma aveva anche a che fare con corpi morti con autopsie e diciamo che è possibile che avessi le conoscenze e gli strumenti adatti per ridurre un corpo nelle condizioni in cui è stato trovato quello di Elizabeth Leslie oltre a questo sembrava conoscere anche alcuni dettagli che non erano stati resi pubblici per esempio sapeva del presunto tatuaggio di Elizabeth una rosa nella coscia e sapeva che quel pezzo di pelle le era stato tagliato e infilato nelle parti intime insieme ai capelli questo però è un dettaglio da prendere un po' con le pinze perché si ne hanno poi parlato i media anni e anni dopo ma è possibile che l'abbiano fatto appunto per aggiungere del macabro a tutta questa storia già piuttosto macabra intendo proprio questo fatto del tatuaggio non è sicuro al 100% ecco comunque quando l'autrice del libro stava facendo le sue ricerche per supportare la sua teoria è entrata anche a contatto con le dichiarazioni dell'ex proprietario di un motel della zona Aster Motel si chiamava e lui invece si chiamava Henry Hoffman il suo era un motel piuttosto piccolo aveva appena 10 stanze e nella sua dichiarazione ha detto che la mattina del 15 gennaio del 47 la stessa mattina del ritrovamento ha aperto la porta di una delle stanze del motel e ha trovato la camera completamente coperta di sangue e feci in un'altra stanza ha invece trovato dei vestiti da donna legati insieme con della carta marrone e quando ha strappato questa carta ha notato che anche quei vestiti erano ricoperti di sangue ecco dopo questa scoperta scioccante cosa ha deciso di fare niente non ha chiamato la polizia anzi si è messo a ripulire la scena tranquillamente così che potesse riaffittare le stanze subito dopo ha detto che il motivo per cui l'ha fatto è che non voleva avere a che fare con la polizia perché qualche giorno prima era stato accusato da sua moglie di violenza domestica poverino quindi non voleva di nuovo avere a che fare con gli agenti fine e quindi per questa cazzata ha potenzialmente ripulito una scena del crimine che poteva anche non essere quella di elisabeth short ma poteva sempre comunque essere la scena del crimine di un omicidio però ovviamente tenete a mente che queste sono le parole di un uomo a tanti anni dai fatti parole che non possono essere provate con certezza fatto sta che l'autrice del libro pensa che sia quella stanza di motel il luogo in cui elisabeth è stata brutalmente turata e poi uccisa anche perché alcune persone che hanno soggiornato lì in quel periodo hanno detto di aver visto una donna che rientrava nella descrizione della black dahlia capelli nero corvino occhi verdi vestita di nero chi lo sa l'unica cosa certa in tutto questo casino è che non sapremo mai la verità si tratta di un caso troppo vecchio in cui la polizia ha indagato troppo male un po' per lo scalpore iniziale e la serietà del caso che era senza precedenti non erano abituati e un po' perché forse è vero che è stata corrotta anche questo non lo sapremo mai molto probabilmente ad oggi poi tra l'altro non ci sono più le prove fisiche di quel caso e anche se ci fossero cioè le pochissime che ci sono sono state comunque maneggiate male tenute male dagli investigatori del tempo che ovviamente non conoscevano non potevano conoscere le tecniche moderne della scienza forense il caso della black dahlia insomma rimarrà per sempre un mistero l'unica cosa che possiamo fare noi è cercare di capire quale teoria sia la più credibile ma anche così non riusciremo mai ad individuare un vero e proprio colpevole ormai è troppo tardi e questo era tutto su elisabeth short la dahlia nera non avete idea di quanto mi sia dispiaciuto scoprire la sua storia questa povera ragazza era lì alla ricerca di una vita migliore e invece questa vita che tanto sognava le è stata proprio strappata via nel peggiore dei modi nel modo più macabro immaginabile cioè anzi inimmaginabile perché come fai anche solo a immaginarti di fare una cosa del genere penso che ricorderò questo caso come uno dei più raccapriccianti e tristi che abbia mai trattato sul canale ovviamente fatemi sapere cosa pensate e quali sono le vostre teorie secondo voi per esempio tra i sospettati che vi ho descritto qual è il più plausibile so già cosa tanti di voi diranno ma voglio comunque vedere le vostre considerazioni io ora vi dico la mia ma prima mettete in passo il video scrivete la vostra così vediamo se la pensiamo allo stesso modo fatto? ok secondo me è George O'Dell dai troppi collegamenti troppe cose strane poi in generale una persona di sicuramente capace di uccidere ah cavolo cosa che non vi ho detto prima un fotografo che partecipava alle sue feste ha anche dichiarato tempo fa che nella sua casa accadevano cose strane e poi ha aggiunto accadevano omicidi testuali parole eppure niente nessuna indagine ma sì lasciamolo andare è troppo strano raga mi sembra un pdd degli anni 40 quando ancora in effetti si poteva sfuggire più facilmente a queste accuse oddio pdd c'è riuscito per decennie anche adesso attenzione però probabilmente mo se la vedrà brutta vediamo come si evolve anche quella situazione vabbè sto divagando se anche oggi vi è piaciuto passare del tempo con me ricordate di lasciare un mi piace a questo video o un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di e ora ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che questo venerdì parleremo di una setta religiosa che oddio raga volevo parlarvene da tantissimo e ho deciso di farlo proprio in questo periodo con l'avvicinarsi di Halloween perché credetemi questa setta ha fatto delle cose allucinanti indicibili eppure non se ne parla molto in questi anni dovrò stare proprio attento questa volta alle parole che userò in quel video spero comunque di avervi incuriositi e spero quindi che rimarrete nei paraggi iscrivendovi al canale e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare dopo un'ora qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricordati che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più in profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi do appuntamento questo venerdì con un altro file ciao